Buongiorno abbiamo con noi Pierattilio Superti che è il segretario generale del Lanci Lombardia. Lanci è l'associazione dei comuni che ringraziamo, al quale chiediamo immediatamente di spiegarsi quali sono le ricadute sui cittadini rispetto alle nuove politiche di tassazione sulla casa che sta facendo il governo. Buongiorno a tutti, è un piacere poter dire qualche cosa attraverso il sito dell'amico Giancarlo a cui auguro ogni successo. La legge di stabilità, che in realtà è sempre stata la legge finanziaria, cioè quella che regolerà il bilancio dello Stato per tutto il 2014, come tutti avranno visto prevede alcune novità riguardo ai comuni e sono novità che presentano alcune luci ed alcune ombre. Alcune luci che si riferiranno in modo positivo sui cittadini è che ci sarà un allentamento del patto di stabilità di circa un miliardo, vuol dire che i comuni che in questi anni hanno dovuto dare allo Stato 4 miliardi e mezzo ogni anno di maggiori entrate rispetto alle uscite, quest'anno potranno avere a disposizione un miliardo per fare investimenti sui propri territori. non è certo la risoluzione di tutti i mali, ma può rappresentare una inversione di tendenza. Ricordo a tutti che il patto di stabilità è sostanzialmente una regola che deriva dal patto di stabilità europeo di cui tutti discutono per il 3%, eccetera, che sostanzialmente prevede che un comune non abbia solo l'obbligo del pareggio in bilancio, ma abbia l'obbligo di avere una determinata percentuale di entrate superiori alle uscite, cioè che ci sia sostanzialmente un avanzo che poi non può essere utilizzato in altro modo, ma che va a determinare un abbattimento dell'indebitamento dello Stato. Questa percentuale è di circa il 15%, ogni anno i comuni devono fare un bilancio che abbia il 15% di entrate superiori alle uscite. L'altra cosa che la legge di stabilità prevede è l'introduzione della trisi, cioè la tariffa sui rifiuti e i servizi indivisibili, è composta di due tariffe, di due imposte, la prima è la tariffa per il servizio rifiuti, la seconda è la Tasi, cioè la tassa per i servizi indivisibili del Comune. Viene abolita l'Imu sulla prima casa, resta l'Imu sulla seconda casa. È possibile che i comuni ritornino ad assimilare alla prima casa le abitazioni date in comodato gratuito ai parenti in via diretta. Facciamo l'esempio concreto, cioè il genitore che dà in comodato gratuito la casa al figlio, fino all'anno scorso pagava l'Imu come fosse una seconda casa. Dal 2014 ai comuni viene data la possibilità di considerare anche la casa data in comodato gratuito ai propri parenti diretti come figli e genitori come prima casa. Vediamo nel dettaglio le cose. La Tari è la tariffa dei rifiuti, deve coprire il 100% del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, compresi gli investimenti necessari per gli impianti per lo smaltimento, sia essa raccolta differenziata, sia essa altre forme. La paga chiunque occupa un immobile, le un'area coperta o scoperta. I criteri devono essere ispirati al principio del chi in cui ne paga e anche questo si prevede che i comuni abbiano col proprio regolamento la possibilità di stabilire e anche di mitigare, perché il conto è dire che chi in cui ne paga e qui siamo tutti d'accordo, ma quando in una famiglia vi è una persona purtroppo non più autosufficiente, che usa molti pannoloni ad esempio durante la giornata e quindi è un grande inquinatore. Cosa facciamo? La colpiamo ulteriormente rispetto a quanto può essere un ufficio o una cosa simile? La seconda tassa è quella della Tasi, cioè la tassa che si applica per i servizi indivisibili, cioè la polizia locale, cioè l'illuminazione pubblica, tutti i servizi che come dire il comune rende in modo generale alla città. Però tutti si chiedono se questo nuovo impianto di tasse sarà in termini quantitativi superiore al precedente. Allora, per quanto riguarda la Tari, cioè la tariffa dei rifiuti, prima copriva il 100% della raccolta dei rifiuti, adesso la copre il 100% del servizio di smaltimento dei rifiuti. Come sempre saranno poi i criteri per stabilire chi deve pagare di più, chi deve pagare di meno in base all'abitazione che occupa, in base ai rifiuti che produce, ma soprattutto bisognerà introdurre il principio del chi inquina paga e cioè chi produce più rifiuti sarà chiamato a contribuire in un modo superiore rispetto a chi ne inquina di meno, ma diciamo così l'ammontare complessivo sarà quello che è già nella copertura del servizio in molti comuni della Lombardia. Per quanto riguarda la Tasi invece, che sostanzialmente si applica sulla prima casa e sulla seconda casa, sulla seconda casa inabbinata all'Imu, perché l'Imu sulla seconda casa non sparisce, purtroppo a mio parere se non ci saranno delle correzioni di cui in questi giorni si sta già discutendo, sarà più pesante per il cittadino di quanto non lo fosse l'Imu in modo particolare sulla prima casa e in modo particolare sulla prima casa non di valore. Perché? Per come è stata scritta, è una tassa che ha un andamento regressivo e non progressivo, cioè colpisce di più chi detiene una casa di valore inferiore rispetto a chi detiene una casa di valore superiore. Perché? Perché si applica un'aliquota che è l'1 per 1000, che è l'aliquota base che può arrivare fino al 2,5 per 1000, ma insomma l'1 per 1000 sulla rendita catastale, che era la base per calcolare l'Imu l'anno scorso, si applica questa aliquota dell'1 per 1000, ma non ci sono le detrazioni. L'anno scorso c'erano detrazioni di 200 Euro per la prima casa, c'erano detrazioni inoltre di 50 Euro per ogni figlio, tutte queste detrazioni non ci saranno più, per cui il Comune potrà applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella che aveva applicato per l'Imu, ma in realtà il cittadino sarà chiamato a pagare di più perché non ha quell'esenzione di 200 o parte di più euro. Quindi Lanci è impegnata a proporre emendamenti al Governo? Sì, noi chiediamo al Governo di discutere con Lanci il modo in cui si può rendere più equa questa tassazione, perché comunque in tutto il Paese occidentale esiste una forma di tassazione locale, so che non è bello e non è moderno dirlo, ma così è, perché in tutto il mondo esiste una forma di tassazione sulla prima casa che resta alle forme di governo locali, in modo particolare ai Comuni. Detto questo il problema è come questa cosa va articolata, come questa cosa deve essere resa progressiva, come non si possono penalizzare le famiglie che abitano in case, come dire, modeste e come non penalizzare le famiglie che hanno figli, perché il problema in questo Paese è che la vita è molto complicata per una famiglia che ha figli di quanto non lo sia per altre categorie sociali. Quindi il problema che noi abbiamo è proprio questo, oggi la Tasi premierebbe di più chi non ha figli rispetto a chi ne ha tanti, o chi ne ha due o tre, questa cosa bisogna modificarla. Punto due, la cosa che chiediamo è che proprio per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che sono esigenze legate ai servizi sociali, legate ad una maggiore diffusione degli asili nido, legate al fatto che non bisogna avere delle rette per le case di riposo per gli anziani non autosufficienti, troppo alte, chiediamo che siano diminuiti i tagli che in questi anni sono pesati sui Comuni. Ricordo che nel giro di tre anni i Comuni hanno avuto tagli per 8 miliardi di Euro, non c'è nessun altro comparto dello Stato che abbia retto un impatto di questo genere. Però i Comuni non sono centri di rischio, sono centri che erogano servizi, che fanno investimenti, che garantiscono la coesione e l'inclusione sociale, che sono volano per lo sviluppo, per le nostre aziende. In questi anni li abbiamo stretti, li abbiamo messo un capio intorno al collo e il risultato è che c'è stata una diminuzione del circa il 25% degli investimenti che hanno depresso ulteriormente l'economia.